Tiene Balaso, Zoppellari, miracolo sotto rete per Fetti che trova la palla corta, c'è però la difesa di Padova, gran difesa di Balaso. Zoppellari per Marra, c'è la difesa, ancora Balaso, Giannotti per Marra, passa nelle mani del Zoppellari per Giannotti che trova il muro, c'è però Balaso, tocca ora Marra, ancora la difesa di Balaso. Miranelli palleggia per Berger, ci arriva ad una mano Fedrizzi, appoggia Balaso, De Cecco per il primo tempo Murato, appoggia Giannotti, Zoppellari per Sestan, palla ancora in gioco e il punto va a Padova.